Partiranno nelle prossime settimane i lavori del primo lotto dell'Arteria che collegherà la tangenziale di Salerno all'aeroporto Costa d'Amalfi. L'opera è stata appaltata in via provvisoria per un importo complessivo pari a 2 milioni e mezzo di euro. La strada in questione rientra nel progetto più ampio che dovrà collegare la tangenziale di Salerno a Capaccio. Il potenziale di questa infrastruttura è importantissimo per lo sviluppo della nostra provincia, spiega il presidente della provincia Michele Strianese. Per catalizzare la giusta attenzione organizzeremo una manifestazione di posa della prima pietra a cui inviteremo il presidente della regione De Luca.